Il cefalo ed il pagello, due pesci molto diversi tra loro, il primo molto presente ed in abbondanza sui nostri banchi, il pagello un po' meno. Anche il loro costo è molto diverso come lo sono anche la consistenza e il sapore delle carni, ma ad accomunarli purtroppo è una cattiva abitudine dei nostri avventori, ovvero sono poco considerate al momento dell'acquisto a dispetto di più gettonate specie come orate e spigole. Ma il cefalo o baldigara come si usa a dire in dialetto è un pesce che in cucina può dare molte soddisfazioni e salvare anche il nostro borsellino avendo un rapporto qualità prezzo elevatissimo e il più potremmo anche sostenere i pescatori di casa nostra essendo questa specie molto pescata nelle nostre acque. All'istituto alberghiero Santa Marta di Pesaro si è tenuto un convegno proprio per risollevare le sorti e la conoscenza di queste specie, ingiustamente definite povere. Abbiamo scelto due specie diverse, una costiera come il cefalo oppure l'arboretto, che non è nient'altro che il fragolino o il pagello rosa. Anche quella è una specie poco apprezzata ma che meriterebbe ben altre sorti da un punto di vista anche economico, così aiutiamo i nostri pescatori. Tutta produzione locale, di alto pregio anche come qualità organolettica, quindi c'è tutta una serie di aspetti che dovrebbero favorire il consumo di questo. Purtroppo gli umani sono molto legati alla tradizione per cui se mangiano quello che hanno sempre mangiato fin da piccoli è un'apertura verso le specie minori e purtroppo il cefalo ha delle caratteristiche per cui è facile anche da cucinare e purtroppo è poco conosciuto, se ne parla poco, quindi va valorizzato. Sono diversi i motivi della scarsa diffusione tra le tavole nostrane, fatte salve quelle dei pescatori doc, però che invece cucinano spesso e volentieri il cefalo. Forse una sorta di pigrizia a provare nuove specie da buttare in padella, il fatto di legare il cefalo ai fangosi fondali dei porti, il sapore delle carni. Beh, niente di tutto questo, innanzitutto i cefali che troviamo sui nostri banchi di pesce e pescato in alto mare si nutre di alghe e le carni sono ben sode e saporite, ideali per ogni preparazione, buttate sulla griglia poi danno veramente il massimo. È un problema di conoscenza, è un problema di consapevolezza, però come tutto il pesce non va troppo lavorato perché noi dobbiamo sentire le qualità organolettiche specifiche di quel pesce e ogni pesce ha un sapore diverso dall'altro, per cui se noi cominciamo a condire, speziare, come si tende a fare oggi, non aggiungono niente ma anzi alterano il sapore del pesce.